I complimenti vanno al comitato di selezione perché la qualità dei lavori era molto buona, otto lavori, otto documentari, otto cortometraggi documentari e per noi giurati non è stato facilissimo scegliere uno dei documentari come vincitore. Il lavoro è stato abbastanza lungo, le discussioni sono state tante su questa cosa. Qual è stato il metodo per scegliere il lavoro? Fondamentalmente dal punto di vista tematico, cioè del racconto delle persone, dei temi, degli spazi, tutti i lavori erano assolutamente interessanti e anzi ci hanno fatto conoscere delle realtà che effettivamente non avremo la possibilità di conoscerle se non in questo modo. Dunque ci siamo soffermati sull'aspetto formale, su come sono state costruite le storie, su come sono state messe in scena degli autori e abbiamo scelto quei linguaggi in qualche modo che usavano meno artifici possibili, artifici dal punto di vista tecnico-linguistico e dal punto di vista anche un po' retorico. Secondo noi il documentario fondamentalmente non ha bisogno di allegorie inutili, perciò questo è stato un po' il metodo che abbiamo seguito per la prevenzione.